Ecco, si faceva cenno nel servizio a una volontaria della protezione civile è morta mentre tentava di spegnere un incendio. Si tratta di Elena Loduca, la vedete, aveva 56 anni. La morte di Elena è una forte testimonianza dell'altruismo e della generosità, ha detto il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, e di tutti i volontari. Cordoglio e vicinanza sono stati espressi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il sacrificio di Elena, ha detto il sottosegretario Franco Gabrielli, ci restituisce la grandezza di una vita dedicata al servizio degli altri.